Buongiorno, beh potrei anche stare zitto e chiudere il video qui perché non credo ci sia molto da dire in realtà c'è tantissimo e ieri sera è successa una delle più grandi imprese della storia dello sport non soltanto per il risultato che già di per sé è clamoroso ma anche per come è arrivato 3-0 sotto al Camp Nou, peraltro in maniera immeritatissima come sappiamo ieri poi arriva a Anfield, arriva uno dei Liverpool più pazzi di tutti i suoi tempi più pazzo forse anche di quello di Istanbul e fa un'impresa storica 4-0, 4-0 senza Firmino, senza Salah, 4-0 senza Keita 4-0 contro una squadra che si ha giocato peggio di noi anche all'andata ma di fatto ha dimostrato un culo pauroso e poteva dimostrare un culo pauroso anche ieri sera quel video pieno di bestemmie che vi ho detto, avevo censurato dopo il 3-0 al Camp Nou e che di fatto poi non l'avevo più caricato, ha portato fortuna a riprova del fatto che con le bestemmie si ottiene sempre tutto e chi dice il contrario è un boia e uno che dovrebbe andare a difare United grandi bestemmie portano sempre a grandi risultati, questa ne è la prova definitiva detto questo, sinceramente dei giocatori non vogliono neanche parlare perché dovrei iniziare da Alisson, a finire a Origi, a passando per la panchina a destra e a sinistra, a dare 10 e a elogiare tutti ieri sinceramente una delle più grandi partite della storia di Liverpool siamo la squadra più forte del mondo, al netto di tutto non l'abbiamo dimostrato ieri sera come l'avevamo già dimostrato nei mesi scorsi ma ieri sera è arrivata la prova definitiva che non esiste nessuna squadra che possa impensierirci ad Anfield, non esiste nessuna squadra che a livello di grinta di tecnica, tattica, tutto, ci possa minimamente impensierire sì abbiamo perso 3-0 l'andata ma come ho detto era un risultato iper bugiardo un 3-0 che in realtà dovrebbe essere al massimo un 2-1 diciamo vittoria a Barcellona per quella punizione di Messi pazzesca ma un 2-1 già sarebbe stato abbastanza bugiardo un 3-0 è stato il risultato più bugiardo della storia del calcio come già ho avuto modo di dire questo 4-0 ripiana tutti i torti subiti fa giustizia fa giustizia e manda in finale la squadra che più meritava 180 minuti il nostro centrocampo è stato devastante, micidiale Fabinho è il più forte al mondo, anche il ruolo Henderson non ha sbagliato un passaggio al lato c'era Milner, poi è sceso a fare da terzino perché nel frattempo si è fortunato anche Robertson anche se non è un cazzo e tornerà subito a giocare certamente ci sarà per la finale la difesa non la cito neanche abbiamo la coppia di terzini più forte al mondo la coppia centrale più forte al mondo il centrale più forte al mondo il portere più forte al mondo che cazzo vuoi fare? infatti i tre gol dell'andata col Barcellona due colpi di culo assoluti traversa, stinco, riga, traversa, palo gol Suarez che inciampa in area li picca la palla nello stinco e va in porta e poi vabbè, una delle punizioni più belle di tutti i tempi da parte di un certo Messi però insomma, tre golle che non avremmo mai preso in nessun'altra occasione nel senso, forse ne arrivavano uno o due al di tanto abbiamo una difesa che anche ieri sera ha dimostrato che tu ci avessi davanti Messi o chi ti pare, Maradona o Cruyff o Di Stefano qui non passa un cazzo di nessuno se giochiamo come sappiamo se giochiamo con la grinta giusta questi sono i risultati zero gol subiti dal tridente dei ballerini, dei nani e dei tuffatori come diceva qualcuno squadra pazzesca in attacco mancavano due terzi del tridente più forte al mondo c'era solo Manei che ha fatto una partita pazzesca Orrighi che in un periodo che come guarda il pallone quello va in porta Shakiri forse il meno meglio diciamo però comunque mette l'assist del 3-0 però comunque nel secondo tempo entra con un piglio diverso e fa un'ottima partita Buenaldum che è il centrocampista più sottovalutato al mondo come diceva anche tanta gente su YouTube ieri dopo la partita centrocampista quasi sempre decisivo ha fatto una stagione pazzesca ha sbagliato sì tutto a criticarlo perché ha sbagliato la partita di andata grazie al cazzo giocava sette ruoli più in là vedrai se metti Messi in porta i cinque padoni d'oro non li vince più grazie al cazzo che Vanaldum sbaglia le partite se lo mette a fare la prima punta ovviamente si azzeccava anche quella c'era qualcosa che non andava ieri ovviamente messo nel momento giusto nel ruolo giusto nella situazione giusta torna il Vanaldum a cui siamo abituati e ci fa vincere la partita doppietta in tre minuti perché è stato e ci fa vincere la partita ora è tutto grasso che cola finale che sarà certamente difficile non avrà le insidie lo scorso anno ma ne avrà altre diverse perché che ci vada l'Ajax come può essere probabile o che ci vada il Tottenham sarà comunque difficilissima l'Ajax perché comunque è la squadra che gioca meglio al mondo sono così gasati che credo possano veramente vincere con tutti a questo punto qui un Tottenham anche se arrivasse in finale sarebbe gasatissimo dalla prima finale della loro storia la possibilità di vincerla contro un'altra squadra inglese poi contro noi quindi assolutamente ora ci aspettano al finale insperata ma difficilissima noi arriviamo comunque meglio dello scorso anno perché arriviamo dopo aver buttato fuori il Bayern e il Barcellona lo scorso anno diciamo soltanto sempre il Porto ma agli ottavi così beccammo il City ai quarti che fu la squadra più prestigiosa che abbiamo beccato ma comunque un City che in Europa è molto più carente che un campionato una Roma che poi alla fine ci ha anche battuto 4-2 per la verità però con tutto il rispetto aveva battuto il Barcellona con tutto il rispetto sei la Roma e non sei l'Ajax di Ruif ecco o o il Bayern dell'anni 70 per dire sei comunque la Roma c'è un parziale di 5-0 in una partita di andata che in molti sono dimenticati ma che c'è esiste ed è lì arriviamo poi in finale contro il Real Madrid che avrebbe vinto la terza Champions di seguito contro il Real Madrid con Ronaldo Carzivari un Real Madrid molto in forma Modric padrone d'oro e non voglio dire che il Real Madrid l'altro anno sarebbe più forte delle squadre che beccheremo quest'anno perché in finale non esistono più forti e più debole tu puoi perdere anche con il Cattani Setta sono i 90 minuti più pazzi del mondo dico solo che comunque il Real Madrid lì c'ha molta più esperienza di noi e quindi psicologicamente noi siamo arrivati in finale messi peggio di quest'anno quest'anno abbiamo avuto la prova del 9 col Bayern alle ottavi porta i quarti vabbè la prova del 9 del 9 di un altro 9 in semifinale contro il Barcellona peraltro passata la semifinale con questo modo qui che ci dà ancora più più confidenza e soprattutto quest'anno in finale siamo noi quelli tra virgolette esperti seconda finale in due anni di là arriva una squadra di blasone come l'Ajax fortissima e di blasone ma che non fa una finale dal 1721 abbiamo oppure il Tottenham che fortissima e atleticamente esteripante con un'occasione unica nella loro storia ma che esperienza non ne ha neanche una quindi chiaramente arriviamo non dico meglio ma cioè non dico meglio rispetto all'avversario ma meglio rispetto a noi lo scorso anno ecco ora ce l'ho fatta fare il video senza mettermi a piangere perché ieri sera poi alla fine sono ovviamente crollato visto quello che è successo e sempre forza Liverpool sempre forza Liverpool sempre forza Liverpool ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao